Da Campodimarte ai giardini del Porcinai, passando per Saione, ai raggi X sono stati così passati tutti gli angoli caldi della città di Arezzo, controlli a tappeto decisi dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dal Prefetto Maddalena De Luca e dal Questore Dario Sallustio. L'attività ha riguardato dunque in particolar modo i luoghi del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, tra questi anche la stazione ferroviaria, teatro purtroppo sempre troppo spesso di risse per la gestione delle piazze dello spaccio. Nel corso dell'attività, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, che disponeva tra l'altro di un'unità cinofila e gli equipaggi della Polizia Municipale, hanno messo in campo personale in uniforme e investigatori in borghese, realizzando una cinturazione ed azioni di restringimento progressivo per identificare e controllare tutti i frequentatori delle zone calde. L'obiettivo resta infatti quello di garantire maggior sicurezza ai cittadini. Sono state quindi passate al setaccio le zone di Campodimarte, Giardini del Porcinai, Via Guadagnoli, Via Signorelli, Stazione Ferroviaria e Saione, controllate in tutto 73 persone e 31 veicoli.